Un'altra modalità per poter creare delle lezioni personalizzate riprendendo il desktop e commentandole con la nostra voce è quella di sfruttare Active Inspire, il programma che noi utilizziamo ormai da tantissimo tempo con la LIM. Qui ho semplicemente messo insieme diverse immagini che richiamano i dinosauri perché voglio creare una lezione ad impronta scientifica sui dinosauri. Ho fatto in modo che quando si clicca sull'immagine del diplodoco si apre una pagina internet dove ci sono diverse informazioni che potrei tenere a schermo e commentare ai bambini, chiedendogli poi magari di fare un riassunto oppure di ricavare le informazioni importanti allegando magari sotto al video o creando un contenitore tipo un padlet dove ci sia il video e dove posso poi allegare il link di riferimento. Stessa cosa ho fatto ma con un'altra pagina web con il nodosauro. Si clicca sopra e si viene riportati in questa pagina dove ci sono informazioni sul nodosauro che peraltro è una delle più recenti scoperte del 2011 come scoperta. Potrei fare la stessa cosa ma questa volta con un video per il tirannosauro. Quindi come fare? Clicco sulla mia immagine del tirannosauro, vado su questa sorta di trottola, cerco apri sito web. Ho trovato un bel video qui su YouTube sempre della National Geographic, quindi seleziono l'indirizzo web del video, farò copia, andrò nel mio software Gleam, quindi andrò qui, tasto destro, incolla, applica modifiche. A questo punto il gioco è fatto e quando andrò sul tirannosauro mi verrà aperta questa pagina web dove partirà il video. Grazie, ciao.